Vangelo del Giorno di sabato 18 agosto 2018 Sabato della diciannovesima settimana del Tempo Ordinario Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo furono portate Gesù dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse ma i discepoli li rimproverarono Gesù però disse Lasciateli, non impedite che i bambini vengano a me a chi è come loro infatti appartiene il regno dei cieli e dopo aver imposto loro le mani andò via di là Parola del Signore Lode a te o Cristo La bella immagine di Gesù in mezzo ai bambini serve all'Evangelista Matteo per evidenziare che nessuno è escluso dal regno in modo particolare quelli che assomigliano ai bambini non nell'età anagrafica ma nella loro condizione Nell'antichità i bambini sono considerati insignificanti dalla società per cui Gesù dicendo che il regno appartiene a loro afferma di prediligere gli emarginati i disprezzati gli esiliati gli esclusi i piccoli dell'umanità L'imposizione delle mani su di loro unita alla preghiera è un gesto di benedizione Gli apostoli allora devono essere quelli che non impediscono i piccoli di avvicinarsi a Gesù ma anzi li portano a Lui facendo avvicinare al Suo amore tutti quelli che sono incapaci di andare a Dio con le proprie forze